Mercedes-Benz Ron, capitolo 38, Nick. Quando arrivai a scuola e non la vidi, seppi subito che qualcosa non andava. Non so se fu semplice istinto, ho una vocina nella mia testa che mi avvisò che c'era qualche problema, ma scesi dall'auto e andai di corsa verso la recinzione. Notai che c'erano diversi alunni attorno alla palestra, saltai la rete e andai direttamente lì. Quando mi videro arrivare, parecchi dei presenti spalancarono gli occhi, altri si scambiarono gomitate indicandomi. Allora vidi che Jenna e Lion stavano arrivando dalle gradinate dei campi di atletica e si stavano dirigendo verso la palestra. «Che ci fai qui?» mi chiese mio amico vedendo che gli andavo incontro. «Avete visto Noah?» chiesi senza nemmeno salutarli. Avevo un brutto presentimento. Jenna si strinse nelle spalle e l'ho lasciata dentro cinque minuti fa. Mi voltai e mi incamminai verso l'interno con loro a passo deciso. Quando entrammo, tutti iniziarono a fissarmi, ma io senti solo le urla che provenivano dal fondo di quella stanza. Erano lancinanti. Provai un tale panico nel sentirla urlare in quel modo che perse il controllo. «Dov'è?» gridai seguendo la sua voce fino alla porta dell'armadio. Era lì. L'avevano chiusa dentro e non faceva che urlare e colpire la porta disperatamente. «Tiratemi fuori di qui!» Le mani mi tremavano di rabbia, ma riuscii a mantenere la calma. Provai ad aprire la porta, ma era chiusa a chiave. Mi infuriai come mai prima in tutta la mia vita. «Che cazzo ha la merda di chiave?» Quelli che avevano attorno si spaventarono di fronte alle mie urla, ma io non sentivo altro che la voce disperata di Noah dentro all'armadio. Cassie fece capolino a un'estremità della stanza. Sembrava completamente terrorizzata. Mi porse la chiave e per poco non le staccai un braccio per prendergliela. «E' stato solo «chiudi la bocca!» le urlai. Poi introdussi subito la chiave nella seratura e aprì la porta. Riuscii a soltanto un secondo prima che mi si buttasse addosso e facesse sprofondare la testa nel mio collo, si inghiozzando disperata e tremando di paura. Noah stava piangendo, piangendo. Da quando la conoscevo non l'avevo mai vista versare una sola lacrima, né quando il suo fidanzato le aveva fatto le corna, né quando avevamo litigato alle Bahamas, né quando discuteva con sua madre, nemmeno quando l'avevo mollata in mezzo alla strada. Non l'avevo mai vista piangere sul serio, e ora la persona che avevo tra le braccia era preda di un pianto disperato. Attorno a noi si era formato un cappanello di curiosi e tutti ci osservavano in silenzio. «Andatevene!» urlai sollevando Noah. Tremava così tanto che a malapena riusciva a respirare. Rimasero tutti immobili. «Vi ho detto di andarvene!» urlai più forte. L'avevano rinchiusa, quei figli di puttana l'avevano chiuse in un armadio completamente al buio. «Nick, io...» iniziò a dirmi Jen, osservando preoccupata Noah. «Battene! Ci penso io a lei!» dissi, stringendola a me. Non appena se ne andarono tutti, mi sedetti su un gradino e me la posai in grembo. Era così palida e sfinita. Non era quella la Noah che avevo conosciuto. Questa Noah era completamente distrutta. «Nick!» iniziò a dirmi tra i singhiozzi. «Calmati!» le dissi, tenendola stretta a me. Ero terrorizzato. Vederla in quello stato e aver sentito le sue urla spaventate mi aveva sconvolto. Tutte le mie paure si erano trasformate in realtà e riuscivo appena a controllare il mio stesso tremore. Volevo solo abbracciarla e farla sentire a sicuro. Per un attimo avevo temuto che Ronny l'avesse trovata e che le avesse fatto del male o chissà cosa. Aveva il volto immerso nel mio collo e continuava a piangere. «Fagli andare via!» mi supplicò tra i singhiozzi tremando ancora come una foglia. «Chi, tesoro?» chiese accrezzandoli i capelli. «L'incubi!» mi dispose scostandosi da me e guardandomi dritto negli occhi. «Noa, si sveglia!» le dissi, prendendole il viso tra le mani e asciugandole le lacrime che ancora scendevano sulle sue guance. «No!» disse lei scuotendo la testa. «Ho bisogno di dimenticare! Ho bisogno di dimenticare quello che è successo! Fammi dimenticare, Nick! Fammi!» e a quel punto avvicinò il suo viso al mio e mi baciò. Mi diede un bacio umido di lacrime e pieno di tristezza e paura. La presi dalle spalle e l'allontanai. «Noa, cosa ti succede?» domandai abbracciandola a me e continuando ad accarezzarle la guancia. «Non ce la faccio più!» Quando smise di piangere la portai alla macchina. Ora se ne stava in silenzio, malinconica, immersa nei suoi pensieri, certamente intensi e orribili come quelli che l'avevano fatta morire di paura dentro all'armadio. Continuai ad abbracciarla. La stringevo al mio petto con forza e le accarezzavo la spalla guidando con l'altra mano. Lei non mi scostò, ma anzi si accovacciò vicino a me, come fossi il suo salvagente. Io intanto cercavo di reprimere la voglia di spaccare la faccia a tutti i partecipanti di quella stupida festa. Volevo prima assicurarmi che Noa stesse bene. Quando arrivamo a casa la portai direttamente in camera mia. Non sembrava avere la forza di permettersi a discutere con me, per cui accesi la luce e le presi il viso tra le mani. «Stavolta mi è davvero spaventato», le confessai guardandola intensamente. «Mi dispiace», si scusò, e vidi che gli occhi le si riempivano di nuovo di lacrime. «Non dispiacerti, Noa», la tranquillizzai abbracciandola. «Ma devi raccontarmi cosa ti è successo, perché, non saperlo, mi sta uccidendo e voglio proteggerti da qualsiasi cosa ti spaventi». Lei fece cenno di no. «Non ne voglio parlare». «D'accordo, allora ti porto una maglietta, stanotte dormi qui con me». Non protestò, nemmeno quando l'aiutai a togliersi la canotta e lei fece indossare una delle mie t-shirt. Si torse i pantaloni e si avvicinò al letto, dove la stavo aspettando. Le rivoltai le lenzuole e lei si infilò dentro. Io feci lo stesso e poi la trassi a me, stringendola contro il mio corpo, cosa che desideravo fare da moltissimo tempo. Avevo lottato contro i miei sentimenti, avevo persino preso in giro me stesso, cercando di evitarla o di sostituire ciò che provavo per lei con storie da una notte. Avevo paura che quanto stava accadendo potesse crescere così tanto da farmi sentire indifeso, se le cose non fossero andate bene. Ma non ce la facevo più, ero innamorato di lei e non potevo evitare di provare quel che provavo, non potevo più nuotare controcorrente. Decisi di diglielo, di rischiare e di aprire il mio cuore dopo dodici lunghi anni. Le presi la mano e la portai sul mio petto, proprio all'altezza del cuore. «Lo senti?» le chiesi, vedendo che mi guardava con gli occhi spalancati. «Non è mai battuto così per nessuno, succede solo quando tu sei vicino a me». Chiuse gli occhi e rimase ferma. «Ogni volta che ti vedo desidero baciarti, ogni volta che ti tocco desidero farlo per tutta la notte. Noa, sono innamorato di te. Per favore, smettela di tenermi lontano, se sono facendo male a entrambi». Lei aprì di nuovo gli occhi e notai che si erano inumiditi. Mi osservavano spalancati, supplicanti. «Ho paura che tu possa farmi del male, Nicolas», sussurrò con voce straziata. Lecinsi la testa con forza e determinazione. «Ti prometto che non lo farò, non lo farò mai più», risposi. A quel punto la baciai. La baciai come avrei sempre voluto fare, con tutta la passione e sentimento che provavo. La baciai come qualsiasi uomo dovrebbe baciare almeno una volta una donna. La baciai finché non ci ritrovamo entrambi a tremare su quel letto. Su quel letto mi scostai solo per portare la bocca al suo collo e assaporarla come volevo, come avevo desiderato da tempo. «Tu mi fai impazzire!» Noa le confessai riempiendola di baci, mordicchiandole l'orecchio e sfiorando con le labbra il tatuaggio. A quel punto lei fece qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Mi prese il viso tra le mani e appoggiò la sua fronte alla mia. «Se mi ami, prima devi ascoltare tutta la storia», disse, guardandomi negli occhi. Il suo sguardo color miele brillava sotto le sue ciglia e le lentiggini spiccavano sulla pelle e su suo piccolo naso. «Raccontamela, di qualsiasi cosa si tratti la affronteremo insieme!» Mi fissò intensamente, cercando di decidere se andare avanti o meno, poi respirò a fondo e lo disse. «Quando avevo undici anni, mio padre ha tentato di uccidermi!»» «Irno quiralaya, di qualsiasi cosa si tratti la affronteremo insieme!» Prova